Vediamo insieme quali sono i significati della parola italiana coda. Questa è una coda. Molti animali ne hanno una. Anche questo tipo di acconciatura si chiama coda, proprio come quella che ho io oggi. Quando si guida ci si può ritrovare bloccati in una coda di macchine, ma la coda può anche essere di persone.